Ultimo appuntamento con l'informazione sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera da Andrea Biagioni di Firenze Smart. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano due chilometri di coda tra Firenze in Prunete e Firenze Sud con code in uscita a Firenze Sud in direzione Roma. In A12 sempre a causa di lavori code a tratti tra Carrare e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova e tra Carrare e Versilia in direzione Livorno. In A11 stanotte si ricorda che a causa di lavori rimarrà chiusa l'uscita di Pistoia per chi proviene da Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze per uno scambio di carreggiata ha chiuso lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Cantieri di Firenze domani 13 novembre in orario 9.19 in via Vellutini chiuso il letratto da via del Pavone a via Maggio. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!